Una decisione in via precauzionale ma che dà la misura delle ripercussioni della crisi seguita agli attacchi di Hamas contro Israele lungo la striscia di Gaza e la conseguente controffensiva. Ieri, dopo una vertice in prefettura, Padova è stata disposta a ritensificazione dei controlli sugli obiettivi sensibili della comunità ebraica padovana, in particolare la sinagoga, il museo ebraico e la zona del ghetto in generale. Il prefetto ha incontrato il questore, i comandanti di carabinieri e guarda di finanza e il presidente della comunità ebraica padovana per mettere in campo un potenziamento della sicurezza con passaggi continui di pattuglia in tutta la zona del ghetto di Padova. Si tratta di fatto delle stesse misure di sorveglianza che si applicano ai luoghi di culto e alla cultura ebraica durante le giornate di particolari celebrazioni e ricorrenze. Noi gli obiettivi israeliani ebraici li abbiamo sempre attenzionati molto con dei servizi specifici per loro, che non erano fissi salvo che quando erano previste delle cerimonie, delle funzioni. Adesso abbiamo deciso di renderli fissi sempre, naturalmente ci auguriamo non per sempre, perché questo vuol dire una decantazione che tutti ospichiamo della situazione. Aggiungo che non ci sono segnali di alcun tipo che riguardano Padova, sono misure precauzionali. Nonostante non ci siano evidenze di minacce reali, l'allerta resta alta dato che la comunità ebraica di Padova conta circa 200 membri.